Caro Sindaco, a te la parola. Abbiamo l'opportunità di farlo in un contesto che può offrire una riflessione più generale a come utilizzare questo strumento. Noi oggi lo vedremo in relazione soprattutto ai temi che riguardano la musica, il nostro teatro comunale, ma l'insieme delle associazioni che fanno musica in collaborazione col comune nella nostra città. È un tema che ha una valenza, come comprenderete più generale, sui temi della cultura. Noi abbiamo scommesso all'inizio di questo mandato sul fatto di non tagliare le risorse in cultura e abbiamo assicurato in questi anni di mandato un investimento in cultura, scommettendo appunto sul fatto che sarebbe stato un errore madornale cercare di tagliare per fare fronte all'emergenza di bilancio, alla necessità di bilancio proprio sul settore cultura. Ci ha aiutato in questa capacità di reggere ai tagli l'introduzione della tassa di soggiorno che è stata un successo, l'abbiamo dirottata in buona parte sull'offerta culturale legata alla promozione turistica della nostra città. I dati del turismo in aumento a Bologna parlano chiaro da questo punto di vista. C'è una forte ripresa del turismo nella nostra città, legata alla nostra offerta culturale in senso lato, a cominciare dall'esperienza dei nostri musei, delle nostre istituzioni, della città storica, del museo della città, ma anche alle iniziative appunto di insieme di offerta culturale che siamo riusciti a realizzare. Questo significa, secondo me, vedere il tema dell'Art Bonus molto legato alla centralità del fatto di investire in cultura per il futuro del nostro paese e quindi ragionare su quelle potenzialità che ha introdotto questo strumento, a partire da quello che può offrire Bologna come riflessione. Il rapporto pubblico-privato nella nostra città è un rapporto solido, è un rapporto più che decennale. Assistiamo sempre un po' imbarazzati all'ennesimo rilancio della discussione se ci deve essere un rapporto pubblico-privato, perché sono 30 anni o 40 che lo pratichiamo con successo e magari il nostro contributo può essere di centrare meglio la qualità di questo rapporto e vedere insieme quali sono le questioni. È una città, dal punto di vista dell'offerta culturale nel campo della musica, molto ricca, non solo per la presenza del teatro comunale, ma per un insieme di attività svolte da associazioni private che hanno un rapporto con il comune, molte delle quali sono qui presenti, Musica Insieme, Angelica, Xing, Bologna Festival, il Festival del Jazz. Sto facendo un elenco, vorrei evitare di non citare qualcuno, ma è un elenco che ci dice che c'è una forte presenza di operatori della cultura nel campo della musica che da tempo hanno un rapporto con la nostra amministrazione, che è un rapporto pubblico-privato che è classico, basato sulla promozione insieme al comune, su contributi sempre meno del comune all'attività di queste associazioni. Ma sicuramente nella presenza della cultura musicale contemporanea, Bologna ha una serie di esperienze che possiamo vantare a livello nazionale e internazionale. Oltre al teatro comunale, appunto, nel campo della ricerca e dell'esperimentazione musicale, come ho già detto, abbiamo destinato ad Angelica l'ex sede del Teatro San Leonardo, in questo mandato, stipulato nuove convenzioni con altri soggetti. Bologna Jazz Festival è davvero una operazione di successo che abbiamo insieme rilanciato. Ci sono molte attività nella musica contemporanea, conosciute in città, nel mondo giovanile, ma fuori da Bologna, riconosciute a livello internazionale, per esempio l'attività che si svolgono al Covo e all'Inc. Copriamo uno spettro di musica contemporanea molto forte. In questo si inserisce la realtà del teatro comunale per le iniziative sulla lirica e sulla sinfonica. Un rapporto, quindi, tradizionalmente fatto di relazioni tra il comune, che è detta linee di indirizzo, e i soggetti privati che collaborano e una serie di contributi per quanto riguarda le maggiori iniziative. Un altro rapporto che è consolidato nella nostra città, ma che ha avuto uno sviluppo fortissimo in questi ultimi anni, riguarda il fatto di imprese che sono intervenute direttamente nella produzione culturale. Io posso citare l'esperienza dell'opificio Golinelli, l'esperienza del MAST, a cui si aggiungerà a breve l'esperienza per quanto riguarda il mondo della moda alle rovri, sempre legato alla cultura, alle attività culturali, all'innovazione e all'educazione scientifica. Quindi, un rapporto fatto da comune e associazioni operatori privati, un rapporto di imprese che intervengono sempre più direttamente nella produzione culturale, non limitandosi alle sponsorizzazioni o al finanziamento del singolo progetto, ma assumendo una loro iniziativa culturale. Infine, il tema del rapporto con le fondazioni e con i soggetti privati. Io credo che sia questo il punto sul quale concentrare maggiormente la nostra attenzione, perché c'è un'occasione imperdibile come questa dell'Art Bonus, che però va verificata e forse sostenuta con maggiore convenzione e con maggiori modalità da parte dei soggetti pubblici, sempre in relazione con i privati. Il credito d'imposta dell'Art Bonus, cioè credo che abbia bisogno di essere sostenuto con una maggiore capacità di coinvolgimento dei soggetti privati fino alla destinazione finale del prodotto. Cioè si tratta di utilizzare l'Art Bonus non solo come contributo, ma di verificare insieme quali produzioni possono essere compartecipate dai soggetti privati, quali programmazioni possono essere fatte insieme. Il successo che abbiamo avuto nella prima richiesta di fondi ai privati dice che c'è questa possibilità di risposta. Ma una città come Bologna forse ha l'esigenza in più di stringere questo rapporto proprio nella condivisione della programmazione e della produzione. Cioè di non limitarsi a dire questo è il progetto finanziato, ce l'ho perché è bello, ma cercare insieme progetti condivisi. Credo che su questo ci sia la necessità di un maggiore sforzo da parte nostra anche come contributo che possiamo dare a questa discussione su come applicare l'Art Bonus. In particolare nel mondo della musica questo riguarda il tema del nostro teatro comunale sul quale io credo che noi dobbiamo un'operazione di credibilità ai soggetti privati nel senso che sono stati finanziamenti di soggetti privati da Confindustria ad altri soggetti che hanno permesso di acquisire fondi privati in maniera molto più rilevante rispetto al passato e anche con il coinvolgimento delle fondazioni. Il tema credo sia a questo punto di avere ben presente che siamo a una fase che può essere un punto di svolta. In questo mandato Regione e Comune di Bologna il Comune di Bologna è passato da un investimento annuale sul teatro comunale di 1 milione e 400 mila euro a 2 milioni e 200 mila euro. La Regione Emilia-Romagna raggiunge i 3,3 milioni se non sbaglio e credo che dobbiamo andare avanti nell'applicazione del piano di risanamento così come ci siamo impegnati a fare la notizia delle proroghe possono essere importanti o meno noi vogliamo lavorare come se non ci fosse la proroga perché ci teniamo alla credibilità della fondazione. Attirare investimenti privati significa anche dare garanzie di benutilizzo del denaro che viene utilizzato. Da questo punto di vista è nostra attenzione insieme al sovintendente e all'assessore Conte di avviare questa discussione sia sull'efficientamento e l'efficienza del teatro la sua maggiore apertura all'esterno il coinvolgimento maggiore dei giovani nelle attività e nelle produzioni del teatro comunale e appunto dirci che lo sforzo da parte delle istituzioni pubbliche è stato fortissimo, è stato aumentato adesso si tratta di concludere il piano di risanamento e quindi di concentrare la nostra attenzione su un aumento dei ricavi e delle produzioni e su una riduzione dei costi il che significa come prevede l'impianto ministeriale fare la nostra parte per essere interlocutori credibili dei soggetti privati disponibili a finanziare le attività del teatro comunale non stiamo parlando di voler fare profitti con il teatro comunale stiamo parlando come sanno anche gli imprenditori più avvertiti di realizzare bilanci in pareggio almeno per un certo periodo questo significa sapere affrontare con le maestranze il problema della riduzione dei costi e anche di valutare con lo strumento di ALES una ricollocazione del personale per salvaguardare l'occupazione quindi noi siamo impegnati a questa operazione credibilità ma i conti che abbiamo presentato finora vanno già in questo senso siamo sicuramente una delle strutture più efficienti a livello delle fondazioni che esistono nel nostro paese ma non ci possiamo contentare di questo anche se come tutte le fondazioni chiediamo maggiore certezza sull'erogazione dei FUS sulle cifre soprattutto perché i cambiamenti di anno in anno sono sicuramente un problema di programmazione per quanto riguarda le attività delle fondazioni quindi creare insieme un progetto di rilancio del teatro comunale dove ognuno sia garantito che si fa adeguatamente la propria parte e continuare a investire sull'eccellenza della produzione io mi permetto di dire che il teatro comunale sta facendo un'ottima programmazione culturale un'ottima produzione è importante farlo in questo contesto di azioni complessive il teatro comunale avrà questo tema di un utilizzo maggiore dei propri spazi a cominciare da questo foyer e dagli investimenti previsti per la sua ristrutturazione che riguarderanno in una prima fase la terrazza del teatro comunale con le opportunità ulteriori di utilizzo che questo può dare ma dovremo vedere anche con gli altri soggetti che fanno attività nel mondo della musica come stringere maggiori collaborazioni vantaggiose per tutti i partner voi sapete che esiste la scuola dell'opera sulla quale stiamo lavorando a proposito di giovani quindi noi abbiamo chiaro che per utilizzare bene l'art bonus occorre che ci siano istituzioni che siano credibili e facciano la propria parte quindi insieme al fatto di fare delle proposte ai privati noi lavoreremo contestualmente su questi obiettivi che sono la maggiore apertura del teatro la sua maggiore efficienza l'aumento dei ricami l'attenzione alla qualità artistica e al mondo dei giovani sapendo che bisogna anche uscire per cercare il pubblico come ci diciamo ultimamente insieme al sovrintendente Sani la città anche offre delle iniziative e degli spunti importanti non solo quello che è avvenuto nel mondo imprenditoriale l'attenzione che c'è nel mondo imprenditoriale per i temi della cultura non a caso ho citato il Mast e ho citato l'Opificio Golinelli ma anche l'attenzione che c'è in una fase che riguarda il cambiamento anche fisico della nostra città legato a occasioni di investimento sulla cultura voglio citare il caso dell'ex mercato San Donato che abbiamo affidato a un'orchestra giovanile senza spine che sta dando degli ottimi risultati non solo nella relazione con quella parte del quartiere ma con il fatto che si recupera un immobile prima debito a mercato e lo si converte ad attività culturali incentrate sulla produzione musicale occorrerà che si incontri l'orchestra senza spine con la realtà del teatro lirico e sinfonico perché io qui vedo la possibilità di maggiori sinergie noi abbiamo aiutato queste start-up potranno utilizzare anche loro l'art bonus ma come vedete torno al tema iniziale credo che un utilizzo serio dell'art bonus significa capacità delle istituzioni di coinvolgere nel coprogettare iniziative in questo caso nel campo della musica e anche cercare di dare una regia a queste iniziative Bologna non ha secondo me un deficit di offerta culturale ha un deficit di regia culturale nel senso di presentarsi insieme sullo scenario della produzione culturale però credo che sia davvero importante cogliere lo spirito dell'art bonus non solo come occasione per permettere investimenti nel mondo della cultura ma perché sia l'occasione di esperienze concrete di condivisione della programmazione culturale a questo concetto tengo molto perché altrimenti noi secondo me non cogliamo a fondo lo spirito dell'art bonus potevamo rimanere alle sponsorizzazioni potevamo chiedere ai soggetti privati come siamo abituati a fare dei anni e ogni anno facciamo chiediamo dei contributi per diverse iniziative ma a questo punto a me pare che abbiamo bisogno di prendere sul serio invece il fatto che la cultura è un elemento centrale nello sviluppo di una realtà urbana in particolare della nostra città quindi a partire dall'esperienza del teatro comunale io credo noi dovremmo lavorare appunto per accordi per la cultura e per la produzione musicale dove le nostre associazioni non solo il teatro comunale da quelle che ho citato e quelle che non ho citato ma non perché siano di meno rilievo per condividere una programmazione e vedere insieme come contribuire alla crescita della cultura musicale nella nostra città e all'attrattività della nostra città in questo campo anche assumendo un ruolo come istituzione in questo caso sto pensando alla città metropolitana un po' fuori dagli schemi quello che io trovo sbagliato ogni volta che parliamo di rapporto pubblico privato lo ripeto scusatemi è ripetere se la cosa è di pertinenza del pubblico o di pertinenza del privato c'è sempre il rischio di questo di questo ragionamento superato però ci sono cose che il pubblico secondo me deve fare quando ci sono delle condizioni che il mercato non può percorrere e qui ci sta l'innovazione da parte delle istituzioni faccio un piccolo esempio sperando di non urtare suscettibilità nella nostra città metropolitana noi abbiamo la rocchetta Mattei la rocchetta Mattei è di proprietà della fondazione Carisbo con la fondazione Carisbo abbiamo di recente raggiunto un accordo per cui viene dato in gestione la rocchetta Mattei per tre anni alla città metropolitana e ai comuni questo deve essere il primo passo il secondo passo deve essere quello che le istituzioni chiamino il mondo privato a proposte di gestione della rocchetta Mattei adeguata alla valenza di quella di quella realtà in modo da farne uno degli attrattori dell'offerta culturale turistica della nostra area metropolitana quindi le istituzioni secondo me devono prendersi alcuni rischi rispetto ad alcuni temi dove bisogna essere propulsivi rispetto all'arrivo o meno di privati quindi credo che se vogliamo fare buone azioni con l'art bonus e non limitarci come faremo a operazioni di marketing eccetera farne anche un argomento di discussione serio cioè aprire insieme alla regione all'assessore Mazzetti questo tavolo di confronto con i protagonisti privati per vedere come le risorse private che si possono attirare con l'art bonus possono convergere in una programmazione culturale più solida più programmata più organica da parte della nostra città i dati li abbiamo comunicati altre volte quindi per ora la risposta c'è avvertiamo tutti e non a caso ho parlato dell'impegno nostro serio sul risanamento del teatro comunale la necessità di presentarci come istituzioni che fanno quadrare i conti nel momento in cui chiedono maggiore risorse maggiori investimenti ai privati grazie grazie a tutti grazie a tutti